Bitcoin dove lo comprate? L'ho comprato ad esempio su Coinbase con una semplice postpay con un bonifico bancario se volete c'è la mia guida sul canale ve la linko anche in descrizione basta comunque che trovate la guida Coinbase guida completa Vincenzo o una cosa del genere poi stavamo dicendo come aumentare il valore quindi abbiamo detto i piani lo staking poi avevo dimenticato il cloud il cloud dell'Atao Wallet ecco il quarto era l'Atao prende il valore il terzo è Auto Wallet diciamo il quarto praticamente come vi accennavo prima è noi che contribuiamo alla blockchain avendo installato il wallet sul computer ve l'ho rassunta molto semplicemente e poi come avevamo detto questo qua del valore del Atao poi ci dice ci fa una descrizione veloce della dashboard ci dice che possiamo controllare per le transazioni adesso devo accentuare un attimo nella dashboard mia ecco qui qui ci dice accettiamo deposit in queste monete qui che sono 9 al momento e poi prossimamente altre monete 2 ma come vedete già queste 9 che ci sono sono le più importanti poi chiaramente noi possiamo decidere quante monete vogliamo comprare qua abbiamo scritto quanti bitcone vogliamo depositare qua scegliamo quanto vogliamo depositare qua voglio dire ho scritto un bitcone clicchiamo deposito e ci darò poi l'individuo